Sostenere l'indotto subito saldando gli arretrati e scongiurando dunque il rischio di una bomba sociale e coinvolgere Confindustria Taranto come parte attiva nella nuova governance del siderurgico sono le due richieste avanzate dagli industriali tarantini al ministro Urso. La posizione di Confindustria riguardo il discorso dell'ex Silva Caglieria Italia è quella che ho manifestato la scorsa settimana al ministro Urso. Al primo posto il ristoro dello scaduto con delle fatture dell'indotto, delle aziende dell'indotto perché questo deve evitare una bomba sociale sul territorio perché ripetere un'esperienza tipo quella del 2015 naturalmente sarebbe devastante per il territorio. E questo è il primo obiettivo. Naturalmente poi vogliamo essere parte attiva in quello che può essere la nuova governance e quello che può essere soprattutto quello che noi diciamo da tanti anni il nuovo piano industriale, proprio il vero piano industriale con un cronoprogramma che possa naturalmente far sì che questo problema tavico sia della decarbonizzazione e sia naturalmente della continuità produttiva ce lo porteremo, noi ci auguriamo nei prossimi anni alle spalle. L'altra richiesta è quella di un tavolo nazionale per tutelare imprese e lavoratori. Abbiamo avuto un accollo con tutti i colleghi delle altre territoriali di Genova e Alessandria, naturalmente ormai lo stiamo attenzionando a livello nazionale e quindi tra l'altro abbiamo chiesto un nuovo incontro con i vari ministri, sicuramente al primo posto il ministro Urso come Confindustria Nazionale, dove naturalmente Taronto in questa vicenda è tra parentesi capofila perché essendo insomma che impatta i maggiori naturalmente la struttura è la più grande e quindi anche come lavoratori è quella che è più interessata. Lo sguardo al futuro rimane ottimista in una visione in cui lavoro e salute non si contrappongono. Questo stabilimento va decarbonizzato, la siderurgia è importante, l'acciaio è importante, si può nel giro di dieci anni decarbonizzare questo stabilimento e quindi far coesistere lavoro e salute.